Se è vero come qualcuno ha detto che le parole creano il mondo, allora se ci riabituassimo a dirci italiani, probabilmente riconquisteremmo una identità che si è andata impoverendo sempre più, forse perché ci siamo chiamati per troppo tempo soltanto gente o abbiamo lasciato che benissimo chiamati la gente, siamo dei cittadini e siamo italiani.